Buongiorno, India, Romeo, Giulia, Spra, Hotel, Helicoptero. India, Romeo, Giulia, Spra, Hotel, Hotel, Ghedi, Torre, buongiorno a voi, l'H1022. 1-022, traffico AMS, siamo prossimi all'attraversamento del nostro fondamentale a sud, servizio a tutti i cento tivi sull'anno. Ricevuto, sin da ora siete autorizzati all'attraversamento del nostro fondamentale a sud, riporterete passando il paese di Ghedi, destinazione? La destinazione sarà almeno. Ricevuto, allora rimarrete in contatto con noi, riporterete quanto suolo siete ancora nel nostro ATZ. In questo momento ha liberato il fondamentale, richiamerà sul target per la chiusura. Ricevuto, avete aperto con noi ai 2-2. 2-2, con tu. India, Alfa, Hotel, Ghedi, Torre, dopo l'Eno, proseguite per l'ospedale civile di Brescia? Guardate, non abbiamo idea del tipo di paziente che troveremo e se è possibile poi questo tipo di... La destinazione ve la daremo dopo, successivamente. Questo tipo di problema ci ricontatterete quando dopo vi rialzate in volo. Ringrazio. Vedi l'India, Hotel, sul target per la chiusura, dopo la chiusura. Ricevuto, accortesemente, il numero di persone a bordo, vi informiamo che abbiamo la pista in uso 13 Wright. 13 Wright in uso, siamo a Bossa e a Porto. Ricevuto, a risentirci dopo, dopo, chiude con noi 2-5. Buona gentilezza, l'ultimo win-win. Vedi, buongiorno, in via Romeo, Giulietta, Alfa, Hotel, elicottero. Giulietta, Alfa, Hotel, che di Torre, buongiorno di nuovo. L'H sempre 1-0-2-2. 1-0-2-2, appena decollato da Leno, in rientro a Montichiari, mantenendo i 500 piedi, attraverserà sud del vostro canto, se autorizzato. Siete in vista, siete autorizzati all'attraversamento del nostro campo e del nostro fondamentale è sud, riporterete l'attraversamento effettuato. Assurdo, autorizzato, completando, richiamerai Alfa, Hotel. Alfa, Hotel, che di Torre, confermate sempre se sei a bordo? Affermativo. Ricevuto. In via Alfa, Hotel, che di Torre, da parte di Montichiari, Torre, ci riportano che dopo l'attraversamento, quando contattetele di loro, vi dovete inserire in base sinistra per pista 3-2 per traffico. Base sinistra, pista 3-2 per traffico, accoppiato in via Alfa, Hotel. Ricevuto, un attraversamento effettuato dal nostro fondamentale, potete contattare, se in da ora, Montichiari, Torre, 119,4, schiude con noi ai 3-4. 119,4, le ulteriori, 3-4, ringrazio, e via Alfa, Hotel. Buona giornata. A voi. Buona giornata.